Sto uscito? Sì, sto uscito. Contro chi? Inter, Inter, i cugini. Ah, pochino. Eeeh, te che è? Che è successo? Anche io vado a casa. Sì, vado. Contro Seviglia. Seviglia, sì. Mamma mia. Ma... Ma te... No. Conosci... Suso? No. Sì, 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 te conosci Suso? No. Te lo conosci anche bene, Suso? No, 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 no. Lo conosci, figlio di... Ma no, vieni qua, aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qua. Daglie, daglie, andiamo, andiamo a Buda, questo, andiamo. Oh, te sei Roma? Che fai? Io sono uscito. Te che cazzo fasteggi? Ti sembra un momento di festeggiare la stazione? No, 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 è... È anni, eh. È roba lì. Che dove vai? A Buda, questo. A Buda. No, no, non me lo dì. Anche te... No, te conosci la mela. È il tuo amico. No, non è il mio amico. È il tuo amico. È il tuo amico.